Cittadinanza per investimento in Nicaragua. Correggere il testo. Principali benefici di ottenere la residenza in Nicaragua. Un passaporto classificato tra i primi 50 passaporti al mondo. Viaggiare senza visto in oltre 110 paesi. Accesso a tutti i paesi della zona Schengen. Il passaporto ha una validità di 5 anni ed è rinnovabile a vita. Nessuna residenza minima richiesta. Carta d'identità nazionale nicaraguense inclusa. Patente di guida nicaraguense inclusa. Requisiti principali. Il richiedente principale deve avere almeno 18 anni. Il candidato deve avere un patrimonio netto elevato. I richiedenti non devono avere precedenti penali e devono essere di buon carattere. I candidati devono essere in buona salute. Opzioni di investimento. Investimento aziendale tramite Sociedad Anonima. Un richiedente può effettuare un investimento rimborsabile di 100.000 dollari nel paese tramite una società nicaraguense Sociedad Anonima. Opzioni di investimento. Investimento nel settore immobiliare. I candidati possono acquistare beni immobili in Nicaragua per un valore minimo di 100.000 dollari. Ottenere il passaporto in Nicaragua. La libertà di viaggio è vitale per tutti i candidati. Il tempo trascorso in transito o la richiesta di visto di persona può sembrare frustrante, soprattutto quando i candidati hanno problemi commerciali più urgenti a cui rivolgersi. Costo della vita accessibile e fantastici prezzi immobiliari. Governo stabile e condizioni economiche. Buona istruzione e leggi fiscali favorevoli. Gente amichevole e buoni servizi pubblici. CitizenshipConsultant.com è il leader globale nella pianificazione della residenza e della cittadinanza. Aiutiamo centinaia di individui facoltosi, famiglie, imprenditori. La nostra missione è aiutare te e la tua famiglia a ottenere la libertà che meritate per raggiungere i vostri obiettivi attraverso le molte principali transizioni della vita. Offriamo il miglior servizio per garantire a tutti i nostri clienti il raggiungimento degli obiettivi esatti di residenza globale e cittadinanza. Contattaci per una consulenza gratuita.